Benvenuta. Grazie dell'invito. Direi di iniziare subito chiedendoti, perché è karma russo? Dunque, karma è causa effetto. Nel momento in cui uno mette piene qui diventa karma. Ora, da bambina io osservavo gli adulti e pensavo sono infelici, continuano a farsi del male, che cosa non riescono a capire. E sapevo che avrei dovuto fare qualcosa per aiutare. Poi gli anni sono passati e ho imparato due o tre cose e ora aiuto le persone a capire. Lo faccio con il rosso. Perché il rosso sono io. Benvenuti o bentornati amici, qui è karma rosso. Benvenuti o bentornati amici, qui è karma rosso. Dunque, con questa lettura mi sa che aiutiamo più di qualcuno, perché sapete che la mia ispirazione siete sempre voi e le persone con le quali lavoro. Per cui mi sono accorta che molto spesso non si riesce a comprendere quando si fa il lavoro su se stessi perché ci si sente in una certa maniera e come mai non riusciamo a individuare fino a fondo il carico emotivo di una situazione. O più semplicemente quando viviamo del disagio interiore non sempre riusciamo a individuare tutta la mappa voglio dire della struttura interna dei nostri dispiaceri. E molto spesso, se questo è possibile, si riduce solo al capirne il funzionamento a livello mentale. Quindi per esempio posso sapere che sono triste perché mi è morto il gatto. Però quando chiedo perché sei triste, come mai ti senti in questa maniera? Poche sono le persone che sono in grado effettivamente di riuscire a comprendersi. Magari rimangono sempre a un livello mentale e quindi di fatto anche in cose, voglio dire, di qualunque altra natura, sempre però all'interno delle emotività, si trovano a vivere situazioni in cui si sentono bloccati o non riescono completamente a comprendersi. Quindi ho pensato perché non fare una lettura proprio su questo? Visto che il mio lavoro è proprio aiutare le persone a comprendere, a usare in maniera costruttiva il proprio corpo emotivo, perché non andare a vedere quali sono le emozioni che non riuscite a sentire, quindi che non riuscite a capire e perché questo magari avviene, ok? C'è tutto un ragionamento al di sotto, una logica che ha a che fare con come funzioniamo noi, sia da un punto di vista fisico, quindi di sistema nervoso, sia da un punto di vista proprio, vogliamo chiamarlo spirituale, non è solo una questione di spirito, abbiamo appunto un corpo emotivo, un corpo mentale, quindi è proprio la nostra meccanica interiore che funziona in una certa maniera e se non sappiamo come funziona, è ovvio che poi non riusciamo a risolvere tanto bene i problemi quando qualcosa si inceppa, no? Speriamo quindi che con questa lettura riusciamo a risolvere più di qualche situazione. Prima di tutto vi dico sempre, sapere e comprendere è necessario e poi c'è bisogno di fare il lavoro individuale perché ognuno poi ha la propria storia, la propria situazione, ok? Quindi come andiamo a selezionare le diverse opzioni? Voi sapete che le mie letture sono sempre temporali, quindi ci potete tornare in un altro momento per la stessa situazione o per altre situazioni. Potete fare anche più di una scelta contemporaneamente. Abbiamo usato le rune anche questa volta e quindi andiamo a vedere. La prima è questa. La seconda è questa. La terza è questa. E la quarta è questa. Mettete pure in pausa il video se avete bisogno di scegliere. Fatevi proprio la schermata intera del video. Vedete voi quello che l'intuito vi dice che dovete assolutamente ascoltare, ok? E io proseguo intanto cominciando dal numero uno. E siamo alla prima opzione. La mettiamo qui. A farci da guida. Ho già selezionato le carte. Non lo faccio con tutte le letture, ma preferibilmente sì, altrimenti perdiamo troppo tempo. Adesso le andiamo a scoprire e vediamo che cosa salta fuori, ok? Allora, qual è l'emozione o le emozioni che non riesce a sentire e quindi a capire? E magari possibilmente perché, cosa c'è sotto, ok? Allora, partiamo dalla prima. Ve la metto davanti agli occhi. In sé la carta è un nove di denari. Non so se riesce a mandarlo... No, vabbè. In sé la carta è un nove di denari. Però devo dirvelo, non sento proprio che c'entri il nove di denari. Penso che qui importante in questa carta sia l'immagine. Appena la guardo ho proprio una sensazione di... È come un'angoscia, è come la sensazione di essere da soli in una città che non conosco, nel vuoto. È una sensazione proprio di... Ho già contato su me stesso perché ho dovuto in precedenza, quindi lo farò anche questa volta. Non so se me la riesco a cavare, però devo in qualche maniera cavarmela. E quindi posso contare solo su me stesso. Devo arrivare a un obiettivo nella vita, devo raggiungere dei traguardi, devo fare un qualcosa. Ancora non ho capito benissimo cosa, ma mantengo la strada davanti a me, continuo a camminare passo dopo passo. Da qualche parte arriverò, ma la sensazione, anche se esternamente, visto da occhi esterni, può essere quella che so dove sto andando, che so cosa sto facendo, in realtà io dentro mi sento perso. Quindi partiamo da qui e vediamo cos'altro salta fuori. E infatti... Infatti mi sento abbandonato. Vediamo poi... Abbandonato con i miei pensieri. Tutti gli altri hanno una vita, tutti gli altri hanno la loro felicità, ed io sono tagliato fuori da questo. Io sono infelice, sono sfortunato, sono... Non ho diritto, voglio dire, di avere tutta questa bellezza. Scusate, ma la telecamera sta facendo i capricci un secondo, eh? Vediamo se ora si è sistemata, spero non cominci a dare i numeri. Quindi la mia sensazione è che qui ci sia una grande sensazione di isolamento. Un po' la percepite, perché io credo che in qualche maniera ci sia da parte vostra una forma di consapevolezza di quanto siete isolati, di quanto vi siete isolati, di quanto sia difficile anche fisicamente ormai riprendere una sorta di connessione con l'esterno. È un po' come se vi fosse così tanto allontanati da riva che non riuscite più a capire in che direzione dovete andare per tornare sulla terraferma. Ah, allora non era solo un'impressione. Allora stiamo parlando proprio di questo. Allora, da subito, ma voglio andare avanti con le carte, ho avuto l'impressione che stessimo parlando di qualcuno che non solo è rallentato nella vita, ma ha problemi d'alcol. Quindi o siete voi che state guardando la lettura o è la persona riguardo la quale state guardando la lettura. Qui comunque di base c'è un problema d'alcol. Può essere che questo problema d'alcol non sia magari il vostro direttamente né della persona per la quale state guardando, ma di qualcuno molto caro. Ve lo dico già, la mia forte impressione, qui non ci sono indizi, voglio dire la mia forte impressione è che stiamo parlando di una figura maschile e mi continua a venire in testa papà papà papà. Quindi se avete notato recentemente o in infanzia che il vostro padre o comunque una figura che ha avuto tale ruolo aveva problemi d'alcol, esagerava, può essere anche un marito, ma è sempre un rimando alla figura del padre. Mi si sta dicendo tutta la colpa, diciamo, la bella originale è nella figura del padre. Quindi già questo ci dà un bel indizio. qui c'è proprio una forma di tossicità di base e questa forma di tossicità è la chiave anche nello stesso momento di lettura di tutta la situazione. Perché una volta che noi comprendiamo perché questa tossicità si è formata e come viene sostenuta, allora sappiamo anche come disattivarla. Allora capiamo anche che tipo di sentimenti ci sono dietro. qui mi si dice c'è un grosso forte, un grosso senso di forte isolamento e vi dirò di più, di distacco dalla vita. Qui è proprio un rifiuto della vita. Non mi stupisco perché poi chi ha problemi di dipendenza di qualunque tipo lo fa perché attua una dissociazione tra la sua situazione reale, umana e quella che è la sua energia. Quindi cerca proprio di staccare la connessione tra ciò che vive umanamente e ciò che vive interiormente. Che poi è una forma umana anche quella, no? L'interiorità. È solo che ci illudiamo di sentire meno dolore portando tutta la nostra energia e la sua attenzione da un'altra parte. Ma non è possibile farlo completamente perché altrimenti moriremmo, no? E quindi è un'illusione. In questa illusione cresce lo spazio per metodi di sopravvivenza. E se io sto sempre completamente con la mia energia focalizzata su tutt'altro ho bisogno comunque che qualcosa porti avanti la mia vita. Ma portarla avanti con coscienza è doloroso. Allora uso qualcosa che annulla la mia sensazione anche della fatica di portare avanti le cose. Molto spesso la dipendenza è solo questo, è l'essere affamati del forte desiderio di essere felici, di essere vivi e non riuscire mai però a sistemarlo. E quindi cominciamo a nutrire questo nostro fantasma interiore con delle sostanze, con delle abitudini, con dei modi di pensare. perché poi la dipendenza non è mica solo alcol, non è mica solo droga, non è mica solo sesso o gioco. È anche andare troppo in palestra e fare diete assurde. È essere fissati con l'ordine e la pulizia. È essere controllori nella vita degli altri. Quindi poi di fatto diventare pesanti. ci sono mille maniere per assecondare questa dissociazione che avviene come risposta al dolore, che percepiamo come troppo forte ed è quindi proprio il sintomo che qui non ci vogliamo stare. non vogliamo essere presenti nella nostra stessa vita. Se questa è una sensazione che sentite anche voi, sapete da dove vi viene. Probabilmente dalla figura paterna. Se invece non riuscite a capire qualcuno che notate a strani atteggiamenti, questa è la realtà che ci sta dietro per quella persona. Di fatto però parte di questa tossicità, se siete anche qui a guardare, probabilmente in qualche maniera vi ha toccati. Non solo vi ha turbati, ma vi ha toccati. perché se abbiamo un padre qualcosa abbiamo preso, no? Avendoci vissuto assieme. Se abbiamo un compagno o una compagna ne abbiamo preso. Per carità, può essere che semplicemente la vostra sia una dissociazione emotiva, quindi magari non ricorrete a sostanze o abitudini, ma per esempio usate la musica per non ascoltare i vostri pensieri. Sempre musica accesa, sempre radio accesa, videogiochi, ce ne sono mille, leggere, tutto quello che potete usare per mascherare il vostro non voler stare in vostra presenza da soli. Ok? Attenzione, perché infatti, no ragazzi, c'è un forte rimando qui proprio all'alcolismo, adesso è una conferma. e viene da tutta una dinamica familiare. Quindi in una situazione in cui o mamma o papà o entrambi o comunque qualcuno di vicino porta questo stigma dell'alcolismo o di dipendenza, io ovvio che come figlio mi sento lasciato a me stesso, quindi di fatto porto avanti quella ferita. Poi magari non sono lo stesso prototipo di persona, quindi non reagisco, non userò gli stessi stratagemi per sopravvivere, quindi magari non prenderò a mano il bicchiere. Ok? Però quel vuoto me lo porto dentro. Quindi gran parte di quello che voi non riuscite a capire, questo vuoto viene dalla mancanta di figura decente, adeguata, genitoriale o mancata figura decente di un compagno o di una compagna che avevate scelto, che comunque anche lì se questo è il caso ci deve indagare, non si sceglie mai qualcuno a caso e questo vuoto ve lo portate dentro. Quindi lo sentite perché l'avete vissuto attraverso questa persona. Sì, assolutamente, mamma mia. Dinamiche familiari, non siete tra l'altro stati abituati da subito a concepire il problema dell'alcol, della dipendenza, di questa dinamica distorta, di famiglia come totalmente nociva e tossica, anche se ora a distanza di tempo ci siete arrivati o ci state arrivando o ci arrivate oggi con me. È un problema grosso quello della dipendenza di qualunque tipo perché poi ha la capacità di creare una manipolazione costante della nostra emotività e del nostro pensare e noi che siamo esseri umani rispondiamo a questo anche se non ce ne rendiamo conto. Quindi di fatto se ci accusiamo che c'è un problema di questo tipo, il buco che questo problema ha scavato sotto lo si scopre con il tempo quando si comincia a lavorarci e va a demolire come scoprirete gran parte della nostra autostima, della nostra forza interiore, del nostro corpo fisico, ci sono vari sintomi. Ok? Ho detto manipolazione ed eccola qui che salta fuori. Diciamo che questa situazione vi blocca anche proprio in generale perché non non riuscite ad attingere completamente dal vostro dal vostro bagaglio personale. è ancestrale. È una cosa che non è successa ieri, è successa per più volte in più vite lungo la linea familiare che se ne sappia qualcosa o meno poco importa. E qui si sta dicendo anche è un forte desiderio di guarigione quello che hai. Per questo cominci a sentire il buco ma non sai che cosa rappresenta quel buco. Se lo percepisci proprio come un buco è proprio perché è quello che energeticamente è successo. quando abbiamo una zona del nostro corpo energetico che non viene sufficientemente nutrita la sensazione del buco o del freddo o del vuoto non è a caso voglio dire perché è quello che effettivamente sta accadendo energeticamente. poi con la ragione cercate di sistemare quello che sentite e di dire ma potrebbe essere questo o quello ok? Poi magari cercate di farvi forza e di dire beh insomma poteva andarmi peggio ok? Raccontate quello che volete al vostro ego però di fatto il vostro corpo emotivo sta soffrendo e sta soffrendo proprio perché non è mai stata indirizzata completamente o direttamente questa problematica. come prima cosa sicuramente può aiutare i vari gruppi che ci sono di sostegno per persone e per familiari di persone che hanno sofferto o soffrono di alcolismo o di sostanze o di qualunque cosa non abbia a che vedere con l'abuso di come dicevo sostanze o abitudini ok? Sicuramente ci sono consultori sicuramente ci sono psicologi ci sono varie figure però di fatto bisogna poi riuscire a arrivare il corpo emotivo perché si può diciamo rimuovere gran parte del problema però ve lo dirà anche chi è gestato attraverso un percorso voglio dire di questo tipo che la ferita sembra rimanga sì sapete perché? perché interiormente noi non siamo fatti solo di mente ma abbiamo anche un corpo emotivo ed è lì che si forma di trauma caspita la ferita potrebbe anche essere che non ci avevo pensato che percepite questo vuoto che è una paura anche perché magari qualche genitore o qualche figura a voi vicino ma viene a dire genitore perché è forte quella energia ha praticato arti occulte le voglio chiamare così per essere buona e questo vi ha veramente messo a disagio quindi va indirizzato anche questo nel senso che c'è una ferita perché poi quello che si assorbe è sicuramente paura proprio di tutta la spiritualità proprio di quello che non si vede di quello che è essere vulnerabile una sfiducia nella vita è una concezione di vita come dinamica di comando e dominio e quindi poi di colpa di oppressione di fuga tutti quei meccanismi che mettono in moto la negazione come possiamo dire del principio vitale di una persona perché chi pratica arti di un certo tipo sto parlando a livelli proprio poco carini voglio dire è una persona che cerca di supplire alle proprie mancanze con la forzatura quindi è un tentativo di riaffermare il proprio potere che giustamente non ha perché altrimenti non si comporterebbe in quella maniera e quello che tramanda è questo tipo di ferita ok quindi quello è anche da dire valido sì molte cose sono state tacciute nascoste qui stiamo parlando proprio di un grande groviglio familiare con grande non intendo che deve coinvolgere per forza più persone ma che ha avuto una profondità tale uno spessore tale per cui poi si è insediato con i tentacolini in più livelli della vostra esperienza di vita e magari delle persone intorno a voi anche quelle che sembrano non avere nessun problema di fatto qui è stato proprio limitato il vostro potere personale che può esprimersi non solo attraverso il lavoro e la fortuna e il denaro ma anche e soprattutto attraverso le relazioni umane a vari livelli quindi vediamo qui che cosa c'è mamma mia l'avevo detto la figura del padre c'è una distorsione perché poi la figura del padre è anche la figura della protezione del mondo come posto sicuro quindi può esserci stato con questa storia di ecolismo abuso di sostanze o di principi spirituali o di abitudini di concetti può esserci stata una ferita che si è creata dentro di voi che è il controllo dittatoriale che è l'abuso delle autorità che è la non protezione che è il ricattare per essere forzati a fare quindi è proprio la chiusura del vostro senso creativo quello che provate come disagio questo distacco è l'eredità di ciò che è stato il destino familiare diciamo quindi ciò che è stato prima di voi ma anche come conseguenza porta alla ferita del repressione della vostra parte creativa quindi se vi sentite smunti senza motivazioni vuoti anche in questo senso non vi stupite caspita c'è chi poi si è adoperato invece per servire gli altri per cercare di essere utile e in realtà questo ha creato una sorta di inganno a voi stessi e invece di donare con un cuore aperto donate con un cuore a metà e questo vi fa sempre sembrare di essere quelli che poi subiscono la realtà cioè io do tanto non ricevo mi rendo conto che in una lettura di 15 minuti non sia facile affrontare tutto perché poi sento una marea di persone con varie situazioni però tutto questo vi sta impedendo di andare avanti nella vita usando la capacità di vostro cuore di per camminarsi come meglio può nelle varie esperienze che nella vita si fanno molto spesso può essere perché vi troviate a usare per esempio la scusa del denaro per dire che non posso fare qualcosa non mi è concesso fare qualcosa non posso essere felice sono povero quindi non ho amici per esempio ok non sto dicendo che non siate poveri o che sia facile avere amici ma sto dicendo che queste informazioni che vi do possono essere molto utili per fare una sorta di rassegna interiore personale e vedere dove risuonate e dove no vi ricordo che sono letture generali non è che ogni dettaglio per forza deve essere di tutti e c'è di nuovo questa tematica anche un po' della povertà di essere dei barboni oddio può essere che ci sia qualcuno anche qui che ha fatto una vita molto borderline o è stato in strada o ha avuto familiari che hanno fatto quel tipo di vita e qui si parla di nuovo di dipendenza e si parla di come ci si senta così abbandonati dalla vita che poi si arriva o a dipendere dagli altri o a dire a noi stessi tanto non posso fare quella cosa in realtà è proprio questa forte carenza di energia maschile in quello che è stata la costruzione della vostra persona nel tempo che veramente vi sta rendendo infelici e con questo mi raccomando non voglio dire che questa è una sentenza di morte che non si può cambiare voglio solo dire che questo è stato il vostro specifico inizio un po' di se stato ognuno ha il proprio ci sono persone indubbiamente che non hanno grossi problemi nella vita perché non ne hanno avuti dall'inizio però sono pochi ok quindi noi ci preoccupiamo della nostra storia e guardiamo quello che abbiamo le nostre carte sono queste possono ancora tranquillamente cambiare tutto il gioco e possiamo essere felici possiamo risolvere i nostri problemi se abbiamo noi problemi di dipendenza o possiamo risolvere i nostri problemi causati dai problemi altrui in maniera indipendente quindi non è necessario che qui se state guardando la lettura per qualcun altro la persona a cui vi state rivolgendo con la vostra attenzione debba prima smettere di bere o avere certi atteggiamenti per riuscire a concedere a voi la guarigione dovete essere voi a sanare le vostre ferite e qui si parla della bugia a cui scegli di credere quindi qui c'è indubbiamente un bel carico di fraintendimenti che avete creato per voi stessi di strategie che il vostro ego vi ha messo in mezzo per farvi intendere che le cose sono una maniera invece che stanno in un'altra d'altra parte chi ha problemi di dipendenza o si trova a vivere con chi ha problemi di dipendenza si accorge di quanto sia cruciale centrale il tema delle bugie della falsità del non venire a capo delle cose è un classico per cui vi dico vi ripeto avere questo problema vicino o averlo sperimentato e quindi averlo vissuto in maniera intima va a creare danni su ogni livello per cui non vi preoccupate quel vuoto che sentite proprio perché ci sono tutte queste energie di mezzo c'è bisogno di comunicare in maniera più diretta con te stesso di affrontare il problema allo specchio non sto dicendo che la soluzione più saggia sia quella di affrontare la persona direttamente quindi dire guarda caro mio o cara mia che hai questo problema e questo mi ha causato problemi perché vi dico preoccupatevi della vostra situazione interiore è l'unica cosa su cui veramente potete avere controllo se siete voi ad avere questo problema affrontatelo ammettetelo non c'è niente di male ad avere avuto debolezze e problemi l'importante è che nel momento in cui ve ne rendete conto cominciate a cercare di aiutarvi perché siete l'unica cosa e l'unica persona a questo mondo che sarà in grado di farlo veramente non lo possono fare gli altri per voi ok difendi la tua verità è lo stesso tipo di energia e qui stiamo proprio dicendo prenditi cura di te stesso a un livello anche concettuale cioè preoccupati di valorizzare il tuo benessere e di ammettere quanto sei stato ferito quanto ancora ti senti ferito quali sono le cose che ti lasciano l'amare in bocca è il momento proprio di essere brutalmente onesti con se stessi e guardate indipendenza testa in giù quindi abbiamo dipendenza qui è proprio la conferma finale tra l'altro la dipendenza di qualcun altro la voglio mettere apposta testa in giù come mi è arrivata in mano la dipendenza degli altri crea una nostra incapacità di essere indipendenti nel mondo quando saremo adulti quindi alcuni qui potrebbero aver sviluppato anche dipendenze affettive incapacità a loro volta di essere indipendenti da abitudini da amicizie da pensieri dipende ognuno poi si è costruito come si diceva le proprie bugie cioè i propri stratagemmi dell'ego per salvaguardare un'idea di integrità quando in realtà vedete come dentro ci sono varie parti che stanno cadendo a pezzi ok mi raccomando se avete bisogno fatevi vivi io faccio anche questo tipo di lavoro e comunque vada vi auguro tanta guarigione e assolutamente che le cose vadano per il meglio alla prossima ciao ciao ed eccoci con la scelta numero 2 e qui mettiamo a parte la nostra runa le carte sono già state selezionate per facilità andiamo a vedere mano a mano cosa salta fuori quindi cercheremo di capire qual è l'emozione che non riuscite a sentire che non riuscite bene a decifrare e quindi che non riuscite bene a capire e come mai questo non vi è possibile ok allora cominciamo subito con un bel 2 i bastoni a testa in giù allora la partenza quindi la situazione probabilmente iniziale è avere questa forte sensazione di non aver via d'uscita o di non essere compresi quindi non avere di fatto la possibilità poi di o sistemare o modificare qualcosa di essere davanti a una sorta di strada chiusa di mi viene detta l'espressione essere l'impasse cioè essere fermi è come se voi continuaste a spiegare o a spiegarvi a qualcuno però quel qualcuno comunque non dà segni di vita o non dà segni di interesse se questa è la situazione tra l'altro proprio nello specifico e non solo in senso diciamo figurato sappiate che se uno non vuole sentire e non vuole ascoltare potete ripetere quante volte volete potete darmi le spiegazioni il fatto è che non è interessato o interessata quindi a voi voglio dire poi la scelta di continuare a perdere il vostro tempo o meno sì questa forte sensazione che se insisto ce la faccio se tengo duro e continuo a lavorare dentro di me in questa maniera o a comportarmi sempre con maggiore impegno quindi a spingere ok invece che far pausa riflessione se continuo a spingere qualche risultato lo ottengo per carità in certe situazioni è vero che quello è il caso ma non è che se insisto per forza di cose poi vinco io ok quindi partiamo da questa situazione che sembra non portarsi da nessuna parte nonostante ci sia duro lavoro ok l'appeso quindi avvertite la necessità di un cambiamento e probabilmente non riuscite a capire perché questo cambiamento non avviene vi posso già dire una cosa il cambiamento non avviene perché lo state cercando all'esterno deve venire all'interno il cambiamento è una possibilità alla quale ci apriamo che non abbiamo considerato in precedenza non importa perché non l'abbiamo considerata il fatto è che non l'abbiamo considerata e quindi di fatto è la nostra prospettiva interiore che riesce a cambiare quella esteriore ok e qui si dice la situazione già è pesante di suo non è che stai trattando qualcosa di particolarmente facile però il punto è che grandi momenti di stress peggiorano diventano grandi momenti di disastro totale se io non so cambiare il momento giusto se io non so spostare la mia attenzione verso quello che è veramente importante al momento giusto è vero che le cose capitano nella vita quindi alcune cose proprio non sembra che non possiamo controllarle ma questo è perché abbiamo un'idea sbagliata di controllo il controllo non è forzare con l'azione diretta ok è avere contatto diretto con la nostra emotività di modo che quando qualcosa ci capita sappiamo subito come ci sentiamo e quindi abbiamo una vera comprensione della realtà comprendere davvero la realtà dà la possibilità di vedere le vere soluzioni e di accettarle e di prenderle con cognizione di causa non con il muso storto non con la paura certo i timori possono esistere però sempre con un senso di pacatezza interiore per quanto è possibile giustamente qui invece a me pare che ci sia una sorta di sospensione di atteggiamento del tipo non spetta a me cambiare non spetta a me fare questo cosa ci posso fare è l'esterno che non mi dà la possibilità vi dico già che c'è una forma di illusione quindi abbiamo già visto un po' che il fraintendimento qui c'è sulla situazione che state vivendo di fatto magari in tutto questo non riuscite a sentire completamente le vostre emozioni e noi siamo qui per questo di nuovo l'appeso quindi c'è una sorta di incrancredimento diciamo di testardaggine nel voler continuare a fare le cose come sono se voi continuate a volere le cose come sono non vi rimane per forza che tagliare fuori la parte emotiva perché la parte emotiva la verità la sa quando io invece non voglio accettare le cose come sono di fatto non sto accettando il carico emotivo e siccome la nostra vita è solo ed esclusivamente in realtà carico emotivo ed è anche tra l'altro quello che rimane la morte è nelle vostre mani scegliere di cominciare a cambiare o atteggiamento o idea su qualcosa o qualcuno mi viene da dire a questo punto potrebbe essere tranquillamente qualcuno perché qui abbiamo non solo la carta degli amanti ma in sé la carta rappresenta proprio l'unione d'intento all'interno di noi confronto diretto maturo e consapevole con noi stessi e riuscire a equilibrare bene il maschile e il femminile riuscire a scendere a pati con noi stessi non con gli altri quindi una grande parte di ciò che state ignorando di voi stessi sicuramente eccola qui è la zona d'ombra è tutta quella complessità di emozioni che non volete affrontare e che quindi preferite poi non affrontare anche nel reale proprio non cambiando una situazione faccio un esempio se ho a che fare con una persona tossica però mi sono fissata che quella persona è assolutamente l'uomo o la donna della mia vita è ovvio che non cambierò mai atteggiamento verso di lui o di lei perché se lo faccio vuol dire che sto riconoscendo a me stesso la mia infelicità e quindi di fatto comincio a prendermi cura di me stesso quindi di fatto la situazione cambia e questi cambiamenti porteranno altri cambiamenti per cui una persona è troppo ok quindi se siete qui a vedere questa situazione per voi stessi chiedetevi cos'è che è troppo cosa che sto mettendo nel cestino emotivo nascosto in cantina dove non lo posso vedere perché qui c'è tutta la parte proprio della vostra zona d'ombra che vi sta chiamando vi sta dicendo vuoi cambiare la situazione devi cambiare atteggiamento perché stai ignorando una grande parte di me quindi non sentite completamente i vostri sentimenti o non riuscite a comprendervi perché vi comportate in una certa maniera prima di parlare di ferite madre padre di queste cose qui c'è una grossa parte che decidete voi nella vostra parte più intima di non guardare questo significa che la verità in realtà la sapete ok c'è bisogno di guarigione ma questo l'abbiamo capito e di confronto interiore ed ecco qui che si contrappone l'idea di confrontarci all'esterno con il confrontarci all'interno invece cioè l'unica crescita l'unico spostamento l'unico viaggio che possiamo fare è all'interno non ci sono lunghe distanze che possiamo percorrere all'esterno che ci possano portare veramente dove vogliamo all'interno mentre se percorriamo qualunque distanza all'interno poi nell'esterno probabilmente possiamo fare impari però quella situazione fortuita che state cercando quella emozione migliore che sperate di avere è nascosta dentro una scatola di cui tenete la chiave solo voi e quindi bisogna cominciare a chiedersi come mai sto cercando di proteggere ad ogni costo tutta la mia situazione fisica che sto vivendo a discapito del fatto che comunque non sono felice o che comunque ho un'illusione di felicità di nuovo l'appeso ragazzi uno due tre da tre mazzi fino adesso tre appesi bisogna proprio mi viene detto bisogna aprire gli occhi le emozioni le hai già sentite però ti stai rifiutando di considerarle e quindi non è vero che ti sfugge un elemento che se fai qualcosa di più potresti far funzionare la situazione che se magari poni le tue parole in maniera diversa che se ti comporti in maniera diversa no come tu percepisci che l'esterno sta negando di riconoscerti un valore e una rilevanza sappi che tu al tuo interno stai lanciando lo stesso messaggio a te stesso stai dicendo quello che provo non ha sufficiente valore perché di fatto non gli voglio dare attenzione quindi accetta questi scossoni che stai vivendo non con passività ma sapendo che che ci può essere la soluzione cioè per esempio se questa persona con cui ti relazioni è una testa di cazzo e da tale si comporta e magari ti prende e ti lascia se ne va quando gli pare può essere un familiare può essere un amante può essere un amico può essere il vicino di casa il datore di lavoro bene cogli l'occasione per darti la gambe levate comincia a correre incontro alle tue emozioni perché quello che non stai riuscendo a capire è questo è semplicemente il fatto che non vuoi capire più che non vuoi capire non vuoi ammettere che quello che già hai capito è vero perché comporterebbe poi una distruzione di tutte le illusioni che ci hai costruito sopra e qui infatti si parla di un'innocenza che è quasi puerile cioè non è che se nascondo la testa sotto la sabbia non esiste ciò di cui ho paura quindi siccome ciò di cui ho paura esiste indipendentemente che io ci credo o no l'unica maniera che ho per affrontare al meglio la situazione è confrontarmi con la mia paura di modo che poi io abbia uno strumento in più per vivere e non per fuggire vittima se qualcuno addirittura è proprio vittima della situazione nel senso che soffre perché sta in una situazione in cui qualcuno è violento o violenta perché va in ambo i lati verbalmente mentalmente sessualmente fisicamente in generale c'è bisogno di affrontare questo perché probabilmente dietro a tutto questo si nasconde proprio il fatto che dovremmo ammettere a noi stessi che siamo le vittime che non siamo stati abbastanza furbi o che abbiamo una grande idea della nostra furbizia magari effettivamente siamo persone sveglie però davanti a questa situazione ci stiamo comportando proprio come degli inesperti della vita dei ragazzini dei deboli qualunque sia la cosa che il vostro ego non sopporta sta cercando di nascondere questo ed ecco perché sta cercando di non farvi sentire tutto anche fisicamente si crea proprio una dissociazione a livello di parti cerebrali ok finalmente hanno cominciato a rendersene conto e a farci degli studi appropriati prima avevo detto in passe guarda qua quindi abbiamo il cuore e il secondo chakra che non ne vogliono sapere di comunicare con il resto del nostro sistema energetico quindi problemi di digestione di ormoni problemi di pelle anche problemi di cuore palpitazioni peso al petto asma tutto questo è semplicemente una conseguenza naturale è il fisico che si mette in pari voglio dire ed ecco qui vulcano torre qui ci sono grosse situazioni emotive che state reprimendo perché ci sono grossi momenti di autorealizzazione che dovreste affrontare e qui avete proprio la vostra ombra che vi sta dicendo se ti giri a guardarmi magari subito ti faccio paura però poi possiamo diventare amici e quindi vi dico siete intossicati ad ogni livello in questa situazione perciò vi è difficile distinguere la vostra paura dal vostro potenziale quindi state ignorando quella parte di voi che vi sta dicendo guarda che il problema sta qui dobbiamo cambiare totalmente visione dobbiamo fare un giro a 180 gradi un'inversione quindi di marcia di quello che stiamo facendo e che abbiamo fatto fino ad adesso e dobbiamo ammettere noi stessi che forse non siamo stati così furbi forse non siamo stati così forti o forse effettivamente siamo proprio stati delle vittime perché se magari ciò che è accaduto non è nel vostro presente da adulto ma da bambini o comunque in un'età in cui non vi potevate difendere o magari parliamo di violenza sessuale e quella è un bel tasto dolente perché comunque non è così scontato che tutti reagiscano alla stessa maniera che abbiano la stessa capacità di togliersi dal problema ok quando si presenta perché se fosse così facile non esisterebbe no? quindi è questo state infatti il distacco è necessario il distacco non deve essere emotivo non devo isolare la mia parte emotiva per non sentire il dispiacere e il dolore e conservare un'apparenza di compostezza ma è un distacco che va fatto dalla situazione tossica o dalla persona tossica è un distacco che va fatto dalle bugie che mi racconto dalle paure che ho di non riuscire e delle paure che ho di ammettere di essere incasinato nel senso che non so cosa fare non so come cominciare e ci vuole proprio una sorta di purificazione qui ok? quindi sicuramente lavorare sul corpo emotivo e sulle paure il duro lavoro ripaga mettiamolo qui qui c'è di mezzo il creare la realtà che vuoi non la puoi creare fino a che comunque continui a resistere quella che è stata la tua storia quella che è la situazione con resistere intendo fare orecchie da mercante far finta che non sto poi così male oppure sto tanto male ormai sono destinato a stare male per sempre queste sono cavolate che ci raccontiamo quindi è possibile cambiare la situazione però ti sei accorto anche tu che qualcosa ti sfugge e ti blocca è un po' tutte e due abbiamo visto la dinamica quindi quello che stai avendo difficoltà a sentire è la parte che hai isolato in te stesso per non sentire in realtà che sei una vittima che forse sei stato ingenuo che hai fatto degli errori che non sei così preparato e che sei testardo probabilmente nel senso che energeticamente stai cercando tutti i costi di mantenerti nella stessa posizione in cui sei che però è una posizione scomoda quindi parti da lì parti dal distruggere quelle che sono le tue certezze ok quindi spero di avervi dato una mano ognuno avrà la sua situazione questa è una lettura generale se avete bisogno di me come vi dico sempre scrivetemi che sono disponibile anche per percorsi personali ok vi ringrazio e vi auguro il meglio alla prossima ciao bene abbiamo la lettura numero 3 abbiamo selezionato quello che serve qui a lato e andiamo a vedere qual è la vostra lettura ok andiamo a capire qual è l'emozione o le emozioni che non riuscite tanto a comprendere che non riuscite a percepire come mai c'è questa situazione e vediamo di cavare qualche ragno del buco ok allora ok partiamo subito con una situazione che vi sfida e probabilmente vi mette nelle condizioni di dire forse è meglio che aspetto magari i tempi migliori arriveranno o forse è meglio che io agisca subito quindi c'è una una sorta di pace serafica che gli altri percepiscono voi ma in realtà è è come se qualcosa mi dice se uno mi inganni è una maschera questa che usi ti stai dicendo aspettiamo vediamo se le cose cambiano però non mi sembra che ci credi tanto e può essere una situazione che riguarda o qualcuno che ti sta a cuore e magari stai aspettando che questa persona cambi idee torna sui suoi passi oppure ti auguri che nell'ambito in cui hai dei problemi che può essere il lavoro che può essere la famiglia che può essere personale tu riesca veramente a cominciare a sortire meglio le tue energie vediamo quali sono i sentimenti che o il sentimento o le emozioni che non riesce a sentire c'è abbastanza irrequitezza per il fatto che sarebbe bello vedere dei risultati ma ancora non si vedono sarebbe bello vedere per una volta che il destino mi mostra che mi sbaglio con la mia prospettiva pessimista sarebbe bello vedere che la giustizia arriva anche per me che finalmente tutto torna in equilibrio che no tutti i miei sforzi mi danno qualcosa per cui c'è una parte di voi che questo lo sa se lo ripete no però evidentemente qui c'è un carico emotivo un po' più grosso un po' più spesso eccola qui allora c'è un grosso carico di frustrazione che voi probabilmente pensate di percepire completamente ma è solo la punta dell'iceberg è un po' come se voi diceste voglio anch'io avere una fetta della torta qualunque sia la torta a cui state pensando ed è giusto e me lo merito lo voglio però allora perché non arriva in parte non ci credete completamente cioè una cosa è ripetersi qualcosa a livello mentale e pensare di crederci davvero una cosa però è avere la nostra energia da parte di vista emotivo e spirituale che davvero emana questo che poi il discorso del meritare è molto complesso è un po' un costrutto dell'ego quindi è più insidioso che costruttivo eh sì c'è grossa frustrazione perché vorreste vedere tutta questa tiritera o anche semplicemente questa fortuna che abbandona il campo che finalmente si toglie dalle scatole e le cose cominciano a ingranare e infatti voi sareste anche disposti e pronti a metterci ancora più sforzo a ricominciare magari fare un'altra po' di fatica ma c'è ecco cosa non riuscite a sentire c'è come una divergenza da una parte siete sul chi va là e aspettate un piccolo segno almeno di inizio di cambiamento dall'altra siete profondamente sconfortati e questo forse che non riuscite a sentire ed è questo probabilmente che vi tiene in questa situazione eh sì ecco allora che diventa più chiaro probabilmente ragiona che ti ragiona a un certo punto inizio a ragionare cioè non uso più quello che ho acquisito come base di esperienza ma comincio a usarlo come base di prova o non prova di quanto fortunato sfortunato sono di quanto posso non posso fare qualcosa di quanto amato non amato sono e questo è eh in realtà non essere saggi ma essere semplicemente dei gli scriba che tengono nota di quelli che sono i punti a favore o sfavore nella nostra vita ma non è così che dovrebbe funzionare perché se veramente cominciamo ad affrontare la vita in quei termini e ve lo dico per esperienza personale non mi siedo mai su un trono quando faccio questi discorsi è perché cioè poi arriviamo al non avere mai abbastanza nemmeno quando le cose vanno bene perché da una parte in realtà siamo sempre sul chi va là e abbiamo paura che qualcosa di brutto ricominci ad accadere e qui effettivamente vedo che più di qualcuno ha anche autoironia si prende in giro ride di se stesso si può dare una mano l'autoironia sicuramente però nel vostro caso malcela una sorta di rimorso verso voi stessi quindi non solo verso la situazione ma verso proprio voi perché comunque in una situazione in cui non posso cambiare granché è una reazione tipicamente umana indirizzare tutto verso noi stessi è un po' parte della nostra storia soggettiva quindi quello che abbiamo imparato in infanzia è un po' parte della storia collettiva quello che l'umanità di solito repute onorevole o meno fare e poi c'è anche la nostra indubbia incapacità voglio dire di avere modo di risolvere qualunque situazione nella vita uscendone con tutte le parti integre e quindi ci viene automatico dire potevo fare di più quindi se non ho fatto abbastanza sono io quello che non è abbastanza quello che non è bravo e infatti alzi la mano chi soffre di insonnia chi di cervicali chi di mal di testa che ogni tanto vorrebbe piangere non capisce perché e si sente sovrastato da qualcosa che non sa bene definire quindi quella che sentite è un frustrazione mixato a un odio verso voi stessi che viene dall'odio verso la situazione ed eccola qui rifiuto di voi stessi che in qualche maniera pensate di dover attenervi a una qualche forma di perfezione non esiste la perfezione e questo lo diciamo sempre però lo diciamo sempre quando riguarda gli altri se lo diciamo verso di noi molto spesso lo diciamo perché l'abbiamo capito con la testa ma non lo riusciamo ad accettare magari completamente ci sono varie ragioni per questo di sicuro la radice la possiamo trovare nell'infanzia però però c'è anche una grossa componente nel presente c'è questa idea da parte della nostra società che se il 2% di me non funziona come la nostra società dovrebbe farla funzionare con l'istruzione con il continuare a battere il chiodo su certi concetti allora in me c'è qualcosa che non va io direi piuttosto che c'è qualcosa che ti distingue dal resto quindi non è un difetto è una caratteristica non è una mancanza è un'esperienza che magari deciderai di fare in futuro o magari non ti interessa proprio magari non ti è neanche utile farla però qui di fatto vi state veramente incolpando ecco cosa non sentite la rabbia che avete verso di voi e che quindi vi blocca la gioia vi blocca il potere personale il terzo chakra è un po' incasinato quindi pugno allo stomaco in maniera costante e infatti manca l'accettazione e forse questo bisogno di perfezionismo è la mancanza anche di accettazione che avete assorbito in altre fasi della vostra vita e siete cresciuti convinti nel vostro interiore che questi siete voi e che le cose siccome le ho capite quando sono adulto non mi toccano più quando sono bambino non funziona così invece perché le ferite del corpo emotivo rimangono là fino a che non le affrontiamo infatti qui potreste essere anche delle persone con delle grandi visioni sul futuro con grandi capacità però non si spiega come nel presente non riuscite a manifestare tutta questa grandezza cosa succede? succede che ho un'idea troppo bassa di me stesso perché la paragono ho un'idea troppo alta di me stesso irraggiungibile irreale impossibile no? ho poca autostima perché mi sto odiando perché la vita mi ha provato che le cose non si sbloccano io dico aspetto spero che le cose funzionino di fatto sono profondamente scoraggiato e sì sareste persone con una grande fantasia con la capacità di creare dal nulla con una visione anche poetica della vita ma che bello viene detto qui date attenzione a come vi rivolgete a voi stessi ve l'avevo già detto prima che magari c'è anche autoironia però non è il modo giusto di rivolgervi a voi stessi ci vuole supporto bisogna che vi raccontate storie di successo non solo di fallimento è vero che il mondo ci mette davanti a situazioni che ci danno l'impressione che la vita deve per forza essere una sfida è difficile ma posso assicurarvi che se cominciate a coltivare il piacere di farvi ispirare da storie con il lieto fine poi anche tutta l'energia dentro di voi cambia infatti altrimenti fino ad adesso siete nell'energia maschile totalmente sfasata che vi dice che la vita va gestita con la forza e che se le cose non funzionano a forza di battere chiodo allora devo abbandonare però questo genera frustrazione perché comunque la mia voglia è di riuscire la mia voglia di avere soddisfazione riconoscimento successo rimane allora qual è il gap e qual è il buco tra l'avere quello che voglio e sentirmi bene e l'accettare che la situazione non funziona prima di tutto accettare che non sono perfetto e che neanche la vita lo è di conseguenza mi arriverà l'accettare che forse le cose mi possono arrivare in un'altra maniera o magari mi possono arrivare cose diverse quindi qui proprio quello che non sentite è tutta questa complessità di nozioni che non vi permettono di accettarvi e quindi di poggiare l'ascia di guerra contro voi stessi infatti è l'immensa soddisfazione che cercate la potete avere solo dal dentro quando cominciate a volervi bene nel senso che non vi vedete più come voi stessi in quanto limitazione di voi stessi quella che vi manca qui è una soddisfazione quindi nessuno sta dicendo che la vita non sia stata un po' dura fino ad adesso ok la mettiamo così però su questo costruire un sistema secondo il quale beh questo potrebbe essere il mio destino o sono io che non funziono o a questo punto mi fermo e aspetto un miracolo non è la cosa più costruttiva infatti vi dicevo valuta ogni possibilità non significa diventa pazzo per gestire mentalmente ciò che invece deve gestire emozionalmente con l'accettazione per esempio ma più che altro significa se impari l'accettazione vedrai che in ogni situazione prima di tutto ti sentirai più forte secondo più gioioso terzo sarai in grado di vedere nuove possibilità e quindi invece di passare gran tempo del tempo gran tempo gran parte del tempo a sentire che l'esterno è un posto ostile e devo fare fatica o per difendermi o per annullarmi e quindi poi cosa faccio mi ritiro in me stesso e quando sono ritirato in me stesso invece di recuperare forze comincio a disquisire mentalmente a impazzire a trovare una spiegazione li vado a sviluppare ancora più astio e non ne do fuori e magari vi convinco che sono troppo saggio si possiamo parlare proprio di inconscio e di energia maschile ecco la che salta fuori di nuovo che è l'energia del re che è saltata fuori qui che bisogna riportare in equilibrio perché cosa significa significa che evitare di ammettere che ho dei problemi con me stesso non mi renderà più forte non mi renderà più utile al mondo e a me stesso ma continuerà a nascondere al mio grosso potenziale meglio che io mi fermi ammetta tutte le riserve che ho verso me stesso tutta la riserva che ho verso la vita e che in questa maniera amplifichi la possibilità di vedere in realtà quali sono anche i miei punti di forza è un discorso un po' complesso capisco che in una lettura generale non si possa affrontare granché però di fatto cominciate a affrontare l'emozione che state nascondendo voi stessi cioè il risentimento verso voi stessi che poi è il risentimento verso la vita solo che le due cose vanno sempre per mano sempre di pari passo ok cominciate ad accettare di più lavorando sull'odio su voi stessi ogni dimensione della vita quindi vi auguro buona guarigione se avete bisogno di una mano sapete dove trovarmi sia con una lettura che magari con un percorso personale intanto vi auguro il meglio qui è tutto ciao ebbene eccoci qui con la lettura numero 4 e andiamo a vedere che cosa corrisponde a questa runa e quali sono le o qual è l'emozione di emozione che ci sono dentro di voi ma che non riuscite proprio a sentire non riuscite a capire e quindi andiamo anche a vedere il perché selezionato già le carte in partenza per velocizzare le cose vediamo che cosa salta fuori ok partiamo subito ok allora tutto questo come possiamo dire mi viene detto in testa trambusto cominciamo così questo trambusto questa situazione quello che state vivendo ora è il risultato di strutture che avete acquisito in fase di diciamo voi le avete notato in adolescenza ma questi concetti vi sono stati trasmessi già in fase di infanzia ed è un qualcosa che comprendete fino a un tot vi sembra che possa essere risolto di volta in volta fase di guarigione dopo fase di guarigione però poi rimane sempre qualcosina da sistemare rimane sempre qualcosina che pare non funzionare come non riuscire a capire esattamente come funziona un ingranaggio allora da una parte vi posso dire ve lo ripeterò sempre le guarigioni non sono lineari sono sempre a crescere cioè si va sempre meglio però ci sono dei momenti in cui sembra di peggiorare perché in realtà un'energia che credevamo di aver superato magari ha bisogno di essere ripulita nuovamente e non è che si è riformata dal nulla ma è che probabilmente ci sono delle credenze basi oppure ci sono delle credenze connesse che ancora hanno fanno resistenza ancora sono presenti quando noi acquisiamo un nuovo pezzo di informazione sulla realtà quindi ciò avviene in seguito una nostra crescita personale perché si va a fasi acquisiamo anche una diversa visione sulle cose e possiamo quindi scovare meglio quello che ancora rimane da lavorare quindi qui cosa si dice questo questo punto di te questa emozione di te che non riesci a cogliere né nel sentire né nel parlare né nel ragionare né nel dedurre è perché è un qualcosa che ormai è così diventato parte di quello che sei che lo confondi pensi che questo sia una struttura per te valida sempre per quanto ti dia problemi per te una parte di te è convinta che tutto sommato vada bene così e questo perché perché la struttura familiare in cui hai vissuto era forte di gerarchia era forte di imposizione era forte di struttura da una parte ti può aver dato sicuramente dei vantaggi nel senso che ti ha magari insegnato qualche strumento utile dall'altra però è diventata una forte limitazione come se tu poi ti fossi sentito in dovere di esercitare la tua libera energia solo all'interno di certi schemi o all'interno di certe ristrettezze quindi quello che senti è una costrizione quello che non riesci a percepire è questa forte montagna di peso che ti porti addosso in seguito a delle realtà che hai acquisito nella vita che non è detto che debbano essere le tue di realtà possono averti dato struttura per un tot possono anche averti aiutato possono aver tenuto i pezzi insieme qualche volta però non sono chi sei tu e con questo intendo dire che solo perché superiamo qualcosa non è detto che lo dobbiamo buttare in toto ma che magari lo dobbiamo modificare o usare secondo il nostro stile secondo la nostra energia e tutte queste strutture che hai acquisito dentro di te nel tempo ti hanno dato un senso di diciamo di stacco isolamento dalla realtà ovvero a volte potrebbe anche essere che tu ti guardi intorno e magari questo l'hai già fatto nel tempo e ti chiedi com'è che gli altri sono così uniti ai loro genitori com'è che gli altri non hanno questi problemi com'è che gli altri sono sempre sereni felici a me sembra di essere l'unico che è un alieno o vive nelle caverne o non può godere in qualche maniera di quel senso di unione con partecipazione che gli altri umani vivono e proprio perché ti concedi di vivere all'interno di queste strutture quindi cosa succede la tua parte emotiva che è in realtà l'unica parte di te di cui ti dovresti preoccupare da essere umano ovviamente ci preoccupiamo del corpo ci preoccupiamo della mente ma poi tutto ha un fulcro e il fulcro è la parte emotiva se sta bene la parte emotiva sta bene tutto il resto quindi l'unica parte di cui in realtà ci dobbiamo preoccupare sarebbe quella emotiva prenderci cura di essa darle sostegno far sì che fiorisca che si sviluppi che si espanda quando questo non avviene perché noi cerchiamo di ridurre tutto a degli schemi imposti imposti dagli altri imposti da noi stessi poi perché ce li assorbiamo questo limita proprio la nostra espressione per cui cosa succede nel tempo cominciamo a favorire il ragionamento e queste regole chiamiamole così che ci siamo autoimposti e non riusciamo più a ricordarci chi siamo non riusciamo più a sentire chi siamo ecco perché tutte queste sensazioni queste emozioni in realtà il tuo è un senso di soffocamento dentro a questi schemi che non ti non ti sono adatti completamente infatti tutta la tua creatività è ferma quindi non mi stupirei se poi magari hai dei momenti in cui vorresti forzare le cose nei momenti in cui sei profondamente sconfortato o sconfortata dei momenti poi in cui ti rendi conto che vorresti magari comandare o tenere strette le cose o le persone o le situazioni e c'è tutto un sali e scendi diciamo di emozioni che toccano l'esterno di quella che è l'emozione principale il nucleo principale di cui stiamo parlando cioè questo senso di posso concedermi di vivere all'interno di certe distrettezze le mie emozioni quindi vanno soppresse tutte quelle voglio dire che non possono stare all'interno di questa scatola che ho assimilato nel tempo e io sono diverso dagli altri o magari problemi o difficoltà gli altri com'è che sono così felici è un senso di isolamento dall'interno perché effettivamente certi schemi non ne hanno dato solo sottolineo ne hanno dato tanto isolamento si conferma è una cosa proprio che viene dall'infanzia in maniera quasi esagerata nel senso che possiamo ricondurre anche altre cose a cui non stai pensando in questo momento in realtà questa struttura iniziale che ti sei portato avanti quindi qui ti si sta proprio dicendo se vuoi sentirti meglio e capire più a fondo vai a indagare sulla tua infanzia vai a chiederti quanto ti sei sentito soffocare o quanto ti sei sentito imporre qualcosa magari per un certo tempo hai compartecipato a queste imposizioni come intanto che andasse bene non ti pesava particolarmente magari eri felice di sembrare più vecchio magari eri felice di prenderti delle responsabilità magari eri abbastanza felice di avere comunque l'approvazione di mamma e papà o della società però di fatto queste erano limitazioni non erano strutture portanti ok quindi bisogna proprio che ti liberi di tutti questi preconcetti che poi hai costruito attorno a questa infelicità percepita in maniera molto ridotta rispetto alla vera infelicità che ti stava causando al tempo e infatti tutta questa struttura non ti ha creato un trampolino di lancio e un posto interiore in cui sentirti sempre sicura qualunque cosa accada sempre in grado di fare quello che vuoi sempre in grado di sentire le tue emozioni senza paura no ti ha creato una mancancia di senso di ce la posso fare e quindi hai probabilmente sperimentato anche problemi monetari problemi magari sul mondo del lavoro problemi proprio a riuscire a incontrare ambienti che ti potessero dar modo di essere visto visto per quello che sei qui c'è una figura maschile che potrebbe essere pesante ma non mi stupisco perché comunque poi l'energia maschile è quello che crea l'imposizione no? e quindi questo è quello che è il risultato anche di situazioni umane ci sono anche dei piccoli dettagli che saltano fuori mi par di capire che la famiglia è tema centrale che sia a livello concettuale o a livello fisico ha avuto e ha il suo peso anche se magari hai fatto le tue deduzioni anche se magari sei riuscito a unire dei puntini a capire meglio come si fa magari ti sei allontanato da situazioni brutali ti sei messo nella posizione di prendere in mano la tua vita però ancora c'è un centro soffice ricoperto da un esterno duro che non riesci a sfondare e che veramente ti mette in crisi quando si tratta di sentirti al sicuro di sentirti protetto nel mondo nella vita di sentirti diciamo in grado di raggiungere i tuoi obiettivi per davvero qualcosina ancora e quindi qui stiamo tornando proprio al concetto di limitazione data da una parvenza di struttura ritorna continuamente sempre questa idea del padre che può essere stato anche un padre che magari o è mancato e quindi abbiamo avuto una sovrastruttura esagerata da parte della mamma oppure d'altra parte c'è stato un padre oppressivo quindi troppe regole può essere stata anche una madre però qui sto parlando di energia maschile fuori equilibrio tutti hanno energia maschile quindi ecco perché di solito è più facile che il maschio che ne ha in gran quantità rispetto a quello che ha una donna magari si noti di più nella figura maschile quindi nella figura del padre il problema però può essere tranquillamente una madre voglio dire sì è un po' come se si dicesse sempre andiamo avanti sempre per la stessa strada senza guardarci attorno e a un certo punto mi trovo che non so più dove sto andando non riconosco l'ambiente che mi circonda e sono perso mi ricordo che ho un obiettivo ma non mi ricordo più se è il mio quindi questa è una sensazione data proprio da quel problema di struttura e infatti qui si parla di bisogno di rinnovamento bisogno di rinnovamento ma più che altro io direi bisogno di crescita e di scoperta di voi stessi infatti salta fuori la ricerca l'avventura diciamo volta all'accrescimento interiore dovete riuscire proprio a scendere a patti con voi stessi e dire forse nella mia vita non mi sono sperimentato come credevo magari ho fatto tante esperienze però non sono riuscito a concedermi di essere chi sono e questo è perché se da piccini abbiamo avuto tanto controllo da grandi non siamo in realtà degli adulti salutari siamo degli adulti che si sentono sempre senza punti di riferimento per cui anche se sembra che funzioniamo bene nella società nei rapporti umani di fatto noi dentro ci sentiamo sempre proprio senza lo posso dire senza conforto senza riparo senza un punto fisso eh sì resistenza perché quando ci sentiamo sicuri di noi in un mondo protetto ovviamente senza pensare che il mondo sia fatto di situazioni irreali parlo sempre di un contatto vero con la realtà quindi nelle difficoltà ho comunque un senso innato di resistenza queste non sono cose solo che uno ha dalla nascita ma si sviluppano attraverso un rapporto sano con l'energia maschile nelle prime fasi della vita quindi se qualcuno di voi per esempio ha difficoltà di dolore alle gambe alla schiena bassa al bacino problemi in quelle zone di qualunque tipo questo è probabilmente perché non avete costruito un senso di resistenza in voi stessi che sia salutare quindi magari siete delle persone perspicaci e particolarmente ehm come possiamo dire resistenti no che non mollano eh questo sicuramente è ottimo però eh sotto si nasconde il non mollo perché è l'unica cosa che so fare quando invece in realtà eh tutta l'altra il resto della vostra energia non quella mentale quindi vi dice io in realtà non ce la faccio ho bisogno di fermarmi questo ristagno energetico poi eh risiede prevalentemente nelle zone adibite anche a livello fisico al movimento al manifestare all'andare dove voglio e quindi ecco perché c'è un tipo di problemi potrebbe anche essere che abbiate problemi a livello di sangue qualunque tipo di livello di sangue quindi dalle infezioni a problemi della qualità del sangue e tutte quelle problematiche che può dare una cosa del genere vediamo eh infatti voi avete una sorta di cuore ribelle che magari avete cominciato a conoscere però questo cuore ribelle eh per essere tale ha bisogno di ribellarsi a una struttura quindi a volte noi abbiamo difficoltà a mollare una struttura perché ci dà un senso di sicurezza su quello che siamo è come dire più mi allontano dalla costa per andare verso lì disconosciuti più il mio senso di conquista di avventura cresce però cresce anche altrettanto velocemente la mia paura di non aver più desiderio di andare a scoprire nuovi lidi perché a mano a mano che non vedo più la costa da cui sono partito il mio desiderio cala non ho più un confronto non ho più qualcosa da cui fuggire o qualcosa da cui allontanarmi quindi qui c'è un po' un'arma a doppio taglio diciamo nel momento che decidete di allontanarvi da queste vecchie strutture di inseguire qualcosa di nuovo posso dirvi che c'è anche molta rabbia e risentimento verso queste strutture non solo verso di loro come concetto quindi non è che magari siete arrabbiati solo con una persona o una situazione ma probabilmente con l'aver concesso voi stessi di entrare in quella situazione anche se probabilmente non avevate controllo al tempo non avevate la capacità di sapere e di poter anticipare quindi che tipo di rapporto avete per esempio con l'autorità con le imposizioni con qualcuno che magari alza un po' la voce che tipo di pressione sentite quando si tratta di fare qualcosa in maniera diversa quando si tratta anche solo di affrontare la questione proprio concettuale di diverso ovvero qualcosa che si distingue perché tutti siamo diversi però quando viviamo certi tipi di situazioni di partenza la nostra percezione di chi siamo si amplifica in senso negativo quindi passo dal sono unico e raro e comunque ho un mio proposito al sono totalmente diverso è difficile che io trovi un posto e probabilmente sono rifiutato quindi sono o un fuggitivo o un alieno o un ribelle o il poeta dannato tutte queste figure qui ok infatti viene detto studia e impara cioè cosa significa conosci te stesso prima cosa ok vai a fondo guarda i dettagli in questo caso hai il permesso di calma rosso guarda i dettagli perché so che di solito vi dico non tutti i dettagli voglio dire per forza devono essere guardati però in questo caso vi aiutano a unire i puntini tra il vostro presente e il vostro passato tra quello che è stato e il vostro modo di comportarvi di solito infatti si dice collega cuore e mente perché perché il centro della corona poi del terzo occhio l'asna il cuore funzionano insieme ovvero danno spinta e risposta continuamente come un circolo che si autoalimenta quindi se io scollego il cuore non sento le mie emozioni no perché ci sono delle strutture a cui sento di dover far fede strutture che magari non sono neanche mie come dicevamo però in questa maniera devo scollegare la parte emotiva quindi il cuore altrimenti implodo di fatto però quando io sconnetto una parte di me la sto rifiutando quindi non sto funzionando come un insieme sto funzionando come qualcuno che zoppica energeticamente parlando poi perdonatemi è un'ottima immagine anche per la questione che ho detto che mi viene in mente la questione delle gambe la parte bassa del corpo quindi non serve solo l'indagine dei dettagli infine a se stessa cioè capire cosa è successo serve anche sentire questo si vuol dire vincere o perdere è una questione di opinione sì perché allontanarmi da uno schema per quanto possa sembrare utile non deve essere visto in maniera estrema come giusto sbagliato positivo negativo mi porta un vantaggio mi porta un svantaggio perché tutto è relativo tutto ha un suo punto di riferimento in realtà in base al quale possiamo valutarlo per cui invece di star qui a pensare è andata bene è andata male la mia infanzia in questo momento le strutture che ho imparato mi hanno tenuto in piedi o meno pensate a quanto hanno a che fare con me queste strutture e come le voglio affrontare cioè voglio usarle io sono loro che vivono al posto mio ok infatti prenditi cura di te stesso ti viene anche proprio detto cioè ti devi preoccupare del tuo benessere è quello il vero punto di riferimento che devi avere ovviamente nel rispetto degli altri che però non è mai sacrificio di se stessi sacrificio intendo immolarsi sull'altare del sacrificio estremo ok e qui c'è del lavoro da fare sicuramente sulla parte emotiva sulla parte dell'infanzia quindi tutta la zona d'ombra diciamo è una cosa che si può fare anche da soli nel senso che magari sperimentando si può fare però non vi stupite se vi risulta difficile perché comunque territorio a volte insidioso e a volte il confronto con altre persone che sono magari in grado di farlo a livello professionale vi dà una mano ok se mi cercate quindi per letture per approfondire o per fare magari dei percorsi insieme scrivetemi pure cercatemi e io sono sempre qui intanto vi ringrazio e sicuramente vi auguro tantissima e completa guarigione alla prossima ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti